Pieter, felicità per la carica, un progetto molto interessante. Sì, credo. Abbiamo cercato di mostrare quanto riguarda la Fórmula E e la tecnologia Fórmula E potrebbero essere per alcuni super sportivi, e che tipo di potenziale c'è dietro. Questo è quello che abbiamo costruito questa carica. E questa era l'idea di Lukas e me, e credo che ci ha avuto molto bene. Lukas è felice a guidarlo, dal punto di vista dell'ingegneria siamo felice. E ci ha dato il potenziale, quanto stiamo ancora vicino alla produzione e al futuro della mobilità molto buona e emozionale. Io immaginavo che Lukas abbia stato nostalgico sulle macchine ultime sezioni della Fórmula E. Sì, ovviamente. E credo che abbiamo avuto i giocatori. Abbiamo avuto il podium, i motori di Lukas e Daniel, e siamo stati fortunati di avere quattro di loro per installare. Grazie mille e buona fortuna. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.